Stefano, buonasera, finale contro i Red Devils, Europa League della Special Cup, ovviamente una finale sempre da vincere e ovviamente sarà dura. Sulla carta loro sono più forze, sono arrivati più su di noi in classifica, noi siamo arrivati a questa finale giocando un buon preliminare di Champions, anche se siamo usciti, una buonissima semifinale. Oggi ci manca un perno della difesa che è franco, purtroppo si è fatto male ieri al piede, quindi non ci sarà. Siamo sei contati, cerchiamo di limitare le forze e portare a casa questa vittoria. Chi potrebbe essere l'uomo in più per portare a casa questa vittoria? Sei in forma il nostro portiere. Nando, buonasera, finale contro l'Arsenal, partita difficile perché per Stasi sono stati vicini a battere, che ci dici? La partita è difficilissima, come tutte le finali può succedere di tutto, sappiamo che abbiamo il 50% noi, il 50% dolore. Noi cercheremo di tutto per portare questa prima coppa dell'SQ a casa, la nostra prima partecipazione. Chi può essere l'uomo in più per portarla a casa? I nostri attaccanti, indipendentemente da chi segna, ci servono i loro culi per portarla a casa. Un bocca l'uomo? Sì.